30 novembre 1999, 25 anni dopo le mobilitazioni contro la guerra nel Vietnam, riesplode negli Stati Uniti la protesta popolare. Bersaglio è l'incontro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a Seattle. I 134 paesi aderenti si riuniscono per impostare il Round del Millennio, il negoziato del 2000 sulla liberalizzazione degli scambi. Per le strade decine di migliaia di oppositori manifestano contro la globalizzazione stile WTO.